buonasera a tutti benvenuti all'appuntamento con sport club le nostre chiacchiere di basket del lunedì di come tradizione con noi c'è già Max Cocchi tra un istante ci sarà Luigi Valduini buonasera a tutti intanto arrivano già i miei messaggi e neanche il tempo di dirlo è una roba impressionante allora ieri Milano contro gli altri 152 mila spettatori e 1% di share certo che vede dei basket italiano con tanti milioni in campo non lo vedo come fai ad appassionarti quando squadre storiche sono in uno ma con pochi soldi una che avrebbe bisogno di un bacino di utenza enorme viene lasciata svernare una due con solo due squadre che faranno una finale scontata già il basket è in crisi prima adesso lo seguirà mezza Bologna gli irriducibili Fordi Ludini e un po' Milano oltre forse 25 mila persone in totale negli altri palazzi ma in Italia siamo 60 milioni mi sembra un po' poco bah ciao da Paolo si vede in Eurolega poi le figure che fanno queste potenze mamma mia quanta roba però lo sdoganiamo subito partiamo da questa virtù San Milano e dalla presenza del pubblico allora il pubblico innanzitutto il forum di fatto era esaurito si vedevano dei vuoti nelle inquadrature ma erano dovuti essenzialmente al fatto che c'erano dei cuscinetti di sicurezza che dovrebbero essere garantiti tra le tifoserie quindi tra lo spicchio di tifo che era occupato dalla Virtus e il pubblico milanese quindi i vuoti erano dovuti a quello poi sappiamo comunque che Milano ha una politica dei biglietti che è molto diversa rispetto a Bologna quindi molti ricevono dei biglietti omaggio o a costo notevolmente ridotto quindi magari se ne fanno anche una ragione nel non venire all'impianto poi ricordiamo che di fatto anche se la partita è cominciata alle 18 alle 20 e 30 essere allo stadio per gli interisti c'era Inter Juve lo stadio era pieno per l'Inter Juventus anche quello ti toglieva spettatori era fallo di mano a proposito? tu che sei interista? quello di Vlaovic intendi o quello del rigore perché c'è anche un frame con Vlaovic che si mette a posto la palla con l'avambraccio quindi gli arbitri hanno favorito la Juve? ma no gli arbitri hanno favorito la Juve diciamo che non l'hanno danneggiata però sicuramente non è per quell'episodio che poi puoi dire che la Juve ha vinto perché voglio dire la Juve è andata avanti al 23esimo per un avverso c'erano 67 minuti per recuperare la situazione cioè più che altro io andrei a rimarcare sul fatto dell'ennesima prestazione dell'Inter negativa dopo una partita giocata a discreti livelli perché voglio dire a Porto a Do Porto l'Inter si è limitata a contenere le sfuriate del Porto ha avuto una grossissima mano della fortuna nei quei sei minuti di recupero e ha portato a casa uno a zero davvero quindi dopo una buona diciamo dopo una buona un'impresa diciamo dopo un buon risultato per l'ennesima volta la squadra è mancata mentalmente ad un impegno ok Milano è mancata o merito della Virtus? merito della Virtus merito della Virtus che ricordiamolo ieri di fatto aveva il pacchetto esterno ridotti ridotti all'osso perché è mancato anche sono mancati Teodosice e Paiola mancavano già Cordineo e Geleie e a Milano mancavano soltanto Schiltz e Pangos quindi il risultato secondo me della Virtus di ieri è non voglio dire un miracolo ma è un grandissimo risultato quello ottenuto a casa a casa di Milano poi se andiamo a vedere appunto il pacchetto lunghi come c'è un pacchetto lunghi di fatto contato ai ai soli Aket Beninelli e Mannion che altri altri non ce n'erano è riuscito secondo me è riuscito Scariolo a tirare fuori il massimo da tutti questi Beninelli ha fatto anche delle per quello che può fare delle buone cose anche in difesa sì sì certo poi gli indici d'ascolto su un altro discorso su? sugli indici d'ascolto gli ascolti che sono bassi signori la partita è data sulla 9 è un carriere digitale terrestre in contemporanea c'era il Gran Premio di Formula 1 siamo alla domenica alle 6 perché potevi pretendere di fare 2 milioni di spettatori per me guarda devi andare solo sulle tv a pagamento in certi contesti e fregartene dell'audience perché tanto la forbice è ridottissima numeri clamorosi non ne fai questo è un dato di fatto cioè ormai da lì non scappi poi quando hai l'opportunità di andare su un canale forte se la Rai si prende la briga di far vedere Milano Virtus ne parliamo il resto mi dispiace secondo me è grave che la Rai degli eventi di questo livello non li porti 100 volte meglio mandare le partite di serie A2 su Etivorete 7 perché tu hai la prima tv dell'Emilia Romagna che ti fa vedere il basket non è banale no ma tu ti ricordi che 15 anni fa quando all'epoca di 20 anni fa 15 anni fa all'epoca di Francia direttore generale le Rai in cui c'erano le dirette della A2 le dirette della A1 cioè c'erano degli ascolti che erano tripli rispetto ad oggi ma il digitale non funzionava ancora cioè voglio dire era un'altra roba però un altro mondo dai però oggi come dice Max cercare un evento così importante come il derby Milano Virtus non puoi tu tv nazionale vai sul 149 del Bukescai i numeri sono quelli qui almeno tu dici so che c'è un appuntamento fisso con le partite della serie A2 su e tv rete 7 sei qua hai il canale chiaro evidente c'è l'app e alla fine tutti ti seguono ma è completamente un altro discorso questo è veramente un canale lo dico perché ci trasmettiamo da 8 anni connotato in questa regione poi sempre più a livello nazionale con l'app ma certi canali io non mi ricordo neanche che la partita va sulla 9 in tanti casi mi dispiace lavorano anche magari benissimo però c'è una percezione diversa a proposito Luigi arrivano un po' di messaggi Messina fate un tatuaggio della capolista dice Claudio starebbe bene beh io io penso una cosa guarda che non è tanto perché nei social si sono prodigati scusate prodigati in accuse Bollito Messina il problema è che ha contro uno Scariolo che in questo momento è uno dei top 3 europei però la gara non è che per Fino tra Scariolo e Messina che è più bravo io sto discutendo sul fatto non tanto che fosse Bollito che è eccessivo ma no è un grandissimo allenatore io credo che Messina sia stato uno dei più grandi allenatori d'Europa e da qui non scappiamo poi in questa avventura a Milano quest'anno abbia per lungo tempo fallito abbia ripreso sorprendentemente la squadra che poi ha vinto cinque partite consecutive però sulla base che era ultimi in classifica quindi bella rincorsa ma se poi non arrivi ai playoff con quella squadra l'hai comunque fallito come dicevi tu tu hai letto i vari momenti le cose vanno lette a momenti hai perso anche 4-0 con la Virtus voglio dire come Messina ha preso del bollito per 4-5 mesi fino a gennaio Scariolo periodicamente ogni sconfitta della Virtus si prendeva del bollito campionato della coppa l'etichetta del bollito non penso il problema Scariolo bollito oppure Scariolo vattene il problema si ma questo Scariolo vattene si vive di etichette si vive di etichette cioè siamo passati da Messina che fino a gennaio era bollito al Messina che fino a sabato sera era stato miracoloso nel riprendere in mano la squadra per poi ripassare da ieri sera nuovamente al Messina bollito cioè signori cerchiamo di trovare un punto di equilibrio io quello che voglio dire Messina comunque ha ripreso in mano la squadra comunque sta dimostrando in Eurolega che la squadra c'è in questo momento sembra avergli la data su ma secondo me dovrebbe fino in fondo mostrare l'onore delle armi almeno avere perché in questo momento Milano comunque sta giocando molto meglio anche in Eurolega e però si trova di fronte uno come Scariolo con una squadra ieri che sulla carta come nomi era praticamente fatta da tutti coloro che fino a due mesi fa da molti di coloro che fino a due o tre mesi fa quasi non vedevano il campo Bellinelli Mannion e mancavano due dei proprio dei punti di riferimento fondamentali come Teodosic Paiola come Cordinier Ogeleje Ogeleje a proposito ci chiedono qualche informazione sulle condizioni di Ogeleje e Cordinier Allora questo lo sa forse più Max credo che ci siano ancora almeno per entrambi 15-20 giorni anche perché in questo momento non avrebbe assolutamente come per come per Teodosic non ha assolutamente il senso forfare il rientro dei giocatori perché a questo punto allora l'Europa è andata lo possiamo cioè siamo alla matematica la matematica ancora non ci condanna quindi quindi a questo punto cercheranno di recuperarli bene in maniera per il finale di stagione esattamente Cordinier ha un infortunio che è fastidiosissimo perché la fascita è plantare da recuperare è l'infortunio più rognoso che possa capitarti Ogeleia questo problema gli addominali che essendo un problema muscolare deve lo strappo che ha avuto deve ricomporsi bene perché è un attimo ed è un attimo avere una ricaduta quindi preferiscono magari aspettare una partita o un paio di partite in più piuttosto che metterlo dentro una in meno cioè una partita far passare diciamo fino a metà aprile non sarebbe una bestemmia pensare che potessero rimanere la progno di Teodosic di 15 giorni forse Paiolo un giocatore che forse Paiolo nel giro di una settimana potrebbe rientrare ok allora fortitudo inguardabile Pistoia ha fatto un ciappanò per 25 minuti e non se non abbiamo un Aradori formato Michael Jordan ma ancora si giocava Aradori quello che non gioca la F vinceva meglio Torton 4 e non venite a rompere come Dalmonte che alla febbre faceva l'Ercio anche senza e 20 partite che è così e italiano con Cucci è meglio che pensino a giocare che protestare sempre con gli abiti e stare concentrati anziché fare sfondi palle perse eccetera hanno rotto scusa Jack lo sfogo mi manda pure il cuore Aradori bene ieri? 28 punti sbagliando quasi niente tranne che poteva portare a casa la vittoria però se non lo dai nelle mani di Aradori quell'ultimo tiro aveva fatto mi sembra 5 su 7 da 2 4 su 7 da 3 28 punti chirurgici è l'eterno dilemma però cioè sai che è stato forte per me la partita è stata persa nel momento in cui Candussi è uscito per il quinto fallo in quel momento si è persa la partita perché Candussi è fondamentale in questa squadra è quello che mancava davvero sì secondo me mancano gli stranieri adesso vediamo come è quello che è stato fermato dalla strategia basterebbe uno e Thornton oggettivamente hai tagliato Davis ma potevi rimescolare nel bussolotto e ci lievi uno dei due io continuo a ritenere che Thornton non sia quel giocatore scarso che stiamo vedendo ora vuol dire non mi nasconde comunque siamo arrivati a metà marzo è un giocatore che però tatticamente non può stare in questa fortitudo cioè secondo me lo metti lo mandi lo mandi ma perché? lo mandi e ti dice che fa fatica a giocare con Aradori? secondo me sì però fuori di dire che Thornton va fatica a giocare con Aradori Aradori ha fatto 28 cioè calma io non ne faccio non ne faccio una colpa di Aradori certo però ti voglio dire uno dice non può giocare con Aradori perfetto Thornton fa 28 e Aradori fa 2 allora dico Aradori non può giocare con Thornton qui è Thornton che non può giocare con Aradori però Aradori fa 28 e Thornton fa schifo allora con tutto l'affetto c'è un professionista che continua a mangiare a cavallo dei 15 di media e c'è un altro professionista che sta giocando malissimo perché non può giocare con quello che fa 15 ma allora la domanda che noi abbiamo fatto proprio qui ad Almonte è stata proprio questa gliel'hai fatta tu leggendo un messaggio da casa e lui ha detto no perché possono solo complementari perché possono giocare in modo diverso complementare uno all'altro allora io dico andando ad analizzare le partite il problema è che Thornton viene però lasciato tirare dal perimetro e non attaccare il ferro come invece che è una cosa che può creare più difficoltà in un Aradori che ha una mobilità più lenta quindi lo gestisce male Dalmonte secondo te? per me però io ripeto è una tua opinione esatto ma no ma io non valgo non valgo neanche la metà di Dalmonte anche di meno anche molto meno se è chi scrive a questo punto visti i cambi i nuovi arrivi le solite sconfitte finali caro Dalmonte sei rimasto solo te da cambiare saluti da Mauro e da Riccione secondo me bisognerebbe incentivare le penetrazioni l'attacco al ferro di Thornton io non cambierei mai Dalmonte cambierai Thornton io anche io però è l'ennesimo straniero c'è da dire che gli ha presi poi Dalmonte ma questa squadra dal punto di vista italiani è una delle più forti è una delle più forti della due con un buono straniero uno intanto vediamo com'è quello che è arrivato come si inserisce Thornton sarebbe da salutare questo è un dato di fatto vabbè se non risolvi se non risolvi il problema è problema tattico cioè in questo momento è controproducente averlo non si scappa ancora va bene ma scandussi ma gli altri zero in attacco non possiamo giocare con cinque uomini basta con sta roba che Thornton non sa giocare con Aradori sciocchezze è scritto in maniera diversa ma ho tradotto lo vedete che è aburico svogliato non attacca mai il ferro sta là in un angolo aspettando la palla sono d'accordo sono d'accordissimo a proposito vorrei sapere dal buon Balduini che uno che la salunga si scarirà il prossimo anno sarà sulla panca della Virtus allora io me lo auguro fortemente è stato è stato discusso in certi momenti ma sai sono i momenti dai che la sai lunga dai sono i momenti di ira temporanea che poi rientrano quando vedi delle partite come quella di ieri devi pensare che la Virtus è anche un po' umorale nella sua diligenza quindi ci sarà? io spero proprio di sì e penso di sì pensi di sì? sì che indizi hai avuto? penso di sì nel senso che Scariolo si trova bene a Bologna ha 1300 offerte però avrebbe 1300 offerte domani però io spero davvero e lui vorrebbe restare a Bologna prima di andare in pubblicità un flash Ronci se ne va e arriva col De Bella è credibile? è sensato? è credibile è possibile Ronci per me ha lavorato meravigliosamente meravigliosamente ci conosciamo dall'89 da quando venne a giocare a Bologna l'ho rivisto recentemente alla Victoria Station con grande piacere persona di qualità non si lasciò benissimo col pubblico Virtus in virtù anche degli attriti con Danilovic però è uno che a Bologna ha vinto tre scudetti sì roba vecchia sì perché poi io mi dimentico che quelle cose successe 25 26 quasi anni fa oggettivamente per tanti non esistono forse le hanno dimenticate quelli che le hanno vissuto e molti non le hanno vissute un quarantenne non se ne ricorda se arriva Savic a fare il general manager della Virtus nessuno ricorda che l'ha fatto per 4 anni fortitudine ormai vale tutto perché dici che è possibile? per me è possibile perché in certi momenti come ad esempio all'inizio di questo campionato si riconferma fu riconfermato quasi lo stesso budget dell'anno passato a Ronci con qualche ritocco minimo ma Ronci aveva tante di quelle gatte da pelare che la metà bastava perché c'era il rinnovo di Scengeglia al rialzo ti ricordi quanto è stata lunga? uno bravo come Ronci che ha lavorato mai lo manderei via mai lo manderei via però però Ronci può avere bisogna vedere se è Ronci se non è Ronci che vuole andare via esattamente ma secondo te uno che ha vinto tutti i trofei che ha vinto Ronci fino ad oggi perché li ha vinti anche Ronci non li ha vinti solo Baraldi Zanetti e tutta la squadra è stato bravissimo anche Ronci secondo te non ha offerte da squadre d'Eurolega? sì ci potrebbe stare sì no te lo dico io esatto chi? le aveva già avute fammi un esempio di una squadra che potrebbe aver bussato la porna di Ronci un'idea questo no so che si muoveva non lo so da agenti sì che si erano mosse alcune squadre d'Eurolega per sondare il mercato come direttore sportivo ma Ronci voleva rimanere qua certo ok vorrebbe rimanere qua ancora secondo te assolutamente sì ok quindi sarebbe una scelta societaria non della persona allora se si mettesse in dubbio il suo operato l'effettiva efficacia di quello che lui ha fatto in questi anni per me farebbe anche bene a salutare ok allora Vasl ha la pubalgia ci vuole più di un mese se va bene anche qui preso con la pubalgia perché non ci credo che gli è venuto in quelle due settimane l'ombalgia l'ombalgia mi sembrava a me infatti sembrava un problema lombare no di fatto lui era bloccato l'ombalgia mi risulta una prognosi di 10-15 giorni che non sono poi pochissimi sì se fosse pubalgia no certo però se hai 10-15 giorni vabbè ha saltato la prima partita chiaro che se tu hai preso uno una settimana fa e adesso c'ha ancora una decina di giorni è una cosa se ce l'hai già la prossima partita è un'altra siamo a marzo deve cominciare la fase d'orologio deve cominciare il playoff 10-15 giorni in un arco di tempo bene 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 esatto Tortona rotto aria e poi ci vorrebbe uno più cattivo di Dalmonte vabbè questo poi è relativo io credo che Luca sia poi uno che sa dire le cose e che più o meno con questa squadra stia facendo un sufficiente campionato ok oggettivamente questa squadra ha sempre avuto due stranieri improponibili la posizione di classifica della fortitudo qual è? beh sesta sesta no? si poi bisogna vedere anche altri risultati più o meno è sesta non è automatico entrare nei playoff ci si può entrare ora è sesta più o meno io non vedo nessun dramma le cinque che le sta davanti sono più forti non vedo nessun dramma se fossero stati presi stranieri migliori secondo me sarebbe tutta un'altra musica perché in a due gli stranieri rispostano e quelli della fortitudo non solo non hanno dato di più quando uno ti dà di meno sei costretto a farlo giocare perché è uno straniero e ti peggiora il rendimento della squadra la fortitudo adesso è settima con 22 punti e al sesto posto ci sono due squadre come Cividale e qui dicono se perde domenica è settima allora al momento se tu sei in zona playoff il tuo campionato lo stai facendo ok ribadisco peccato per aver sbagliato gli stranieri fondamentalmente la nona è ora si ravenna 18 punti 4 punti dietro vabbè non è automatico entrare nei playoff penso che ci entrerà questa squadra vediamo come va con il nuovo straniero a livello sanitario a livello tecnico Thornton ha deluso e credo che stia diventando un problema cioè da giocatore dal rendimento altalennante adesso ha un rendimento continuo ma bassissimo questo è il concetto se non trovi una soluzione per poterlo per poter fare il suo rendimento è un problema ah non si discute allora adesso qualche consiglio dalla regia poi quando torniamo avremo in collegamento Skype il grande Demis Cavina per parlare di A1 di A2 della sua squadra che si è tolta una grande soddisfazione in Coppa a tra poco Gluten Free Lovers 6222831 Gluten Free Lovers tutto naturalmente senza glutine fatto da celiaci per celiaci sei alla ricerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli dimagrire e curare il mal di schiena prova gratis l'allenamento storefit solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi incluso nella prova gratuita anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie chiamaci subito al numero verde gratuito 8202044 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento storefit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi sai che esiste un ristorante dove puoi gustare carbonara fritti tiramisù e alzarti da tavola leggero è il ristorante Libra di Bologna in via Testoni 10 premiato con una forchetta dal gambero rosso vieni a trovarci la nuova creazione di Chiara Manzi è il ristorante Libra Cucina Evolution primo ristorante al mondo di anti-aging Italian food si trova nel centro di Bologna ed è meta per tutti coloro che vogliono mangiare bene mantenendosi in forno senza rinunciare al piacere e al gusto della buona tavola cosa facciamo? prendiamo i piatti buoni buoni da morire e li rendiamo buoni da vivere per la cura dei tuoi capelli affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri un vero mago della chioma maestro non solo nell'acconciarla ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna in via Urbana 12 barra A ristorante Pizzeria Vittoria in via Righi nella affascinante atmosfera del centro storico di Bologna offre specialità di pesce pizza con forno a legna e cucina bolognese il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento ristorante Pizzeria Vittoria e a Bologna in via Righi 9 a 100 metri dal parcheggio di piazza 8 agosto telefono 051 233 548 Flatline Group Eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana Nata nel 2014 si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo Flatline Group Professionisti del divertimento Poliambulatorio Argo Medicina rigenerativa in via Dazzelio 21 a Bologna per valutare il paziente nella sua interezza e globalità Medicina generale terapia personalizzata diagnosi e prevenzione medicina orale Poliambulatorio Argo nel cuore di Bologna Dick Street 611 Eventi, serate musicali e feste Dick Street 611 il distretto della musica marchio storico di Bologna portavoce della House Music la migliore location i parti più esclusivi Giraldi Editore storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011 i libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook Twitter e Instagram Giraldi Editore Discovery studio investigativo a Bologna investigazioni in ambito privato e aziendale indagini commerciali sicurezza Discovery studio investigativo telefono 051 291 6471 provare per credere provare per scoprire try to believe try to discover di nuovo in studio con Sport Club e pronti a gherare con il nostro ospite che è Demis Cavina ciao Demis ciao buonasera a tutti un piacere ritrovarti ti ritroviamo in veste di trionfatore belle gioie in Coppa sì in Coppa belle gioie peccato che ieri non è andata altrettanto bene ma diciamo che siamo ancora abbastanza felici per la Coppa dai allora una grande un grande weekend e anche una grande prova di centro non vogliamo dimenticarla perché è una realtà innamorata della pallacanestro che sta lavorando magnificamente e che insomma si è regalato una finale credo che sia sempre bello vedere questo territorio in particolare centro che ha qualcosa veramente nel sangue per quanto riguarda del basket gli è rimasta qualche scoria da quella finale ascoltare quello che ha detto Meccacci ieri in conferenza stampa gli è rimasta qualche scoria credo sì allora sono competizioni che comunque portano via energia poi comunque sono state partite molto combattute ma qualcosa ti porta via sia che vinci e sia che perdi e forse non è un caso che anche noi ieri abbiamo perso anche se dopo due supplementari ma abbiamo perso alla pari di centro quindi certamente un po' la coppa ti porta via energia centro ha fatto e sta facendo un campionato incredibile è una società che è cresciuta come dicono di là step by step ed è certamente una realtà importante anche in questi playoff e se la giocherà veramente fino alla fine Luigi ascolta tu mi hai detto eravate un po' con la pancia piena forse ma è vera questa cosa e cosa può fare un allenatore per ritrovare quelle motivazioni perché succede nel calcio succede nella pallacanestro succede un po' in tutti gli sport che dopo una grande vittoria rischia la squadra di essere un po' sgonfia e anche i più grandi allenatori europei molto spesso fanno fatica a ricaricare questa molla dunque per quanto riguarda noi non so se è la pancia piena comunque diciamo che l'energia durante il match non è stata la solita c'è da dire che noi continuiamo a giocare ancora senza Lacy abbiamo giocato anche la coppa senza Lacy certamente ci è mancato qualcosa ieri in termini di lucidità perché più 3 a 20 secondi della fine non abbiamo fatto fallo abbiamo subito la bomba di Vitali diciamo che più che la pancia piena ci sono mancate quelle quelle giocate che ti permettono poi di vincere la partita sì le competizioni le competizioni da dentro e fuori le competizioni poi finali un po' ti assorbono l'energia se ci ricordiamo anche Milano dopo la final four la final four sì ma in generale un po' tutte le competizioni ecco anche quando le vinci ti tolgono energia è una questione di dettagli soprattutto quando giochi contro squadre forti poi quelli fanno la differenza e se non sei lì sul pezzo al 100% poi rischi ecco Max Ennis voi Treviglio Cantù Forlì Cento e Pistoia tra queste sei ci tiriamo fuori le due che vanno su? Io aggiungerei anche Udine perché è vero che hanno avuto peripezie chiamiamole così ma io aggiungerei anche Udine che comunque sulla carta rimane la più forte soprattutto nel suo girone però sì penso che non ci siano delle grandi sorprese da queste arriveranno le due le due promozioni chiaro che Cantù ha già sbagliato lo scorso anno concedetemi il termine e quindi parte con qualcosa in più perché ovviamente magari sugli errori costruisci anche le future vittorie però sarà una dura battaglia anche perché c'è da rispettare Forlì che è un grande fattore campo perché è ovviamente un'ottima squadra idem con patati di cento già detto ma anche anche Pistoia che è una bella bombonera quindi saranno playoff veramente accesi c'è un bel messaggio grande cavina anche se oggi con quella barba e pochi capelli pochissimi purtroppo perché ne so qualcosa sono anch'io qualche lotto e assomiglia Giancarlo Sacco qualche annetto in meno tra parentesi vent'anni in meno ma al di là di questo ne approfitto per farti una domanda perché c'era anche la voce che Giancarlo Sacco dovesse arrivare sulla panchina della Forditudo tu dal monte lo conosci molto bene cosa mi dici di questa situazione vissuta da collega sì vissuta da collega è vissuta anche molto diciamo da lontano quindi non so i dettagli certamente ho letto anche tanti tanti pareri di illustri general manager dei illustri allenatori su quello che è adesso la Forditudo io penso che sarà un periodo di transizione dove probabilmente bisognerà accettare insomma che non si giochi il mercoledì con l'Efes o scordarsi per un po' il derby di Bologna magari come erano abituati i tifosi fortitudini fino a poco tempo fa vero è che per DNA la Forditudo ha sempre avuto squadre a prescindere la categoria abbiano una certa identità una certa durezza Luca è bravissimo in questo probabilmente si sta un po' lottando ancora nel trovare questo spirito l'ho letto più volte anche nelle sue interviste e penso che al di là dei risultati al di là del palcoscenico cui i fortitudini erano abituati penso che in questo momento per questi anni la Forditudo debba ritrovare la propria identità e poi ecco magari costruire su questo su questa dentro e fuori dal campo magari una situazione migliore magari anche più consona al tifo bianco blu visto che comunque rimane uno dei più caldi d'Italia Davins mi hai parlato della mancanza che hai sofferto la mancanza di Lacey però cosa dovrebbe dire la fortitudine che gli è mancato tutto il campionato Davins e Thornton sono assenze importanti sono assenze importanti anche se vuole dire diciamo che mi concedete che magari qualcuno è assente anche quando gioca in certi facenti però 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 io penso che in A2 la cosa che insomma che contraddistingue anche il campionato un po' il campionato di Serie A anni 80 anni 90 sia il nucleo degli italiani io penso che da quello uno debba partire poi è chiaro che gli stranieri danno qualcosa in più le squadre di vertice hanno comunque dei giocatori di rendimento sicuro e rendimento certo e se ti manca fai fatica ad essere nelle squadre di vertice è vero la fortitudine quest'anno ha avuto anche lei un po' insomma vicissitudini dal punto di vista degli americani è chiaro che le scelte vanno anche poi contestualizzate a quello che è il budget quello che è l'obiettivo della squadra e quindi insomma non metterei la croce neanche su chi ha selezionato il giocatore gli americani gli americani sono stati sbagliati perché l'anno scorso specialmente Thornton era un buon discreto americano sono stati sbagliati o malinseriti sai mi viene veramente fatica a giudicare sto cercando di fare dei gii di parole degni dei migliori poeti ma non riesco a giudicare scusa ti aiuto tu Thornton e Davis li avresti presi nella tua squadra? Thornton Thornton per quello che ha fatto vedere pensavo fosse stato un gran colpo ecco devo dire la verità Davis no? allora Davis invece l'avevo seguito anche lui molto bene l'avevo anche seguito personalmente insomma per fare delle scelte probabilmente lo ritenevo ancora un po' acerbo nel senso che è un giocatore che è straordinario e abbiamo anche fatto diciamo dei ragionamenti su di lui però ancora magari non contestualizzato in una squadra di vertici perché è ancora probabilmente un po' acerbo però ripeto secondo me nella scelta dei giocatori vanno anche prese in considerazione quelle che sono le linee economiche e quindi è difficile capito dare dei giudizi se non si sanno quelle che sono le linee economiche unite ovviamente a quelle tecniche certamente non sono due scommesse e soprattutto Thornton è un giocatore su cui mi aspettavo altri rendimenti ti ha sorpreso in negativo questo è un dato di fatto prego per quello che per quello che hai seguito Thornton si può dire che è un giocatore che forse ha più bisogno di un ruolo da protagonista più bisogno di avere più la palla in mano di quello che magari non ha ora sì probabilmente è un po' più accentratore ecco anche nel suo modo di giocare però ripeto è il contesto nel senso che comunque la Foritudo c'è un gruppo di italiani dove ci sono due o tre giocatori a cui insomma piace piace finire le azioni piace avere la palla quindi va tutto un po' contestualizzato vero è che insomma Thornton è un giocatore a cui piaceva avere la palla in mano certamente però ecco non è assolutamente un mangiapallone almeno non era un mangiapallone non è un giocatore ecco che gioca metto tra virgolette per i fatti suoi quindi non mi sento rispondendo alle vostre domande non mi sento di dire insomma che sono state scelte azzardate ecco assolutamente c'è che una stagione qualche cosa magari una stagione può andar bene una stagione può andar male anche per come insomma ci sono i meccanismi tra la squadra che sono veramente delicati quello che volevo dire Demis è un giocatore quindi che può soffrire se non si sente al centro del gioco al centro del sistema Dio non lo conosco così bene però certamente è un giocatore a cui piace piace finire ecco io però vado avanti nel dirlo ecco è difficile è difficile giudicare ecco per me è veramente difficile perché poi ci sono un sacco di ragionamenti magari che non conosciamo meccanismi che non si conoscono quindi posso rispondere alla domanda che mi avete fatto prima mi sembrano due giocatori comunque di qualità entrambi contestualizzati ma sono comunque due giocatori di qualità Demis ti aspettavi la vittoria della Virtus ieri Milano? onestamente no per quello che era stata Milano nelle ultime partite Virolega no non l'ho vista ho letto però non me lo sarei aspettata anche perché Milano sembrava avere raddrizzato un po' quello che era il rendimento quindi no non me lo sarei aspettato senza rispondermi che tu non sei dentro la vicenda cosa mi dici di Bellinelli che si è rigenerato tu da allenatore hai visto Scariolo che lo ha panchinato mi dicono che Bellinelli ha perso anche 5-6 kg e già per questo lo invidio e poi è tornato un giocatore spettacolare direi meglio addirittura del Bellinelli della prima stagione a Bologna che cosa è successo secondo te da uomo di campo? ma assolutamente meglio del Bellinelli in prima versione sono d'accordo con te cosa è successo? è successo che tante cose innanzitutto sono successe e penso che la cosa più importante è che da uomo esperto da giocatore esperto da giocatore importante anche come lui è riuscito a sfruttare anche il fatto di qualche infortunio che la Virtus ha avuto e secondo me c'è tantissimo lavoro anche dello staff e di Sergio in primis che è veramente eccezionale nei giocatori e nel gruppo è certamente meglio di come è arrivato ed è veramente bello anche vederlo giocare anche perché insomma ha fatto ricordare il Bellinelli ecco prima versione cioè prima addirittura prima che partisse per l'NBA insomma un giocatore incredibile deve adesso aspetta la parte più difficile che è il finale di stagione però onestamente è un bel andare con lui così quindi pensi che al di là degli infortuni dei molteplici infortuni che hanno falcidiato la Virtus la gestione anche psicologica e di rotazione dei giocatori che sta facendo Sergio Scariolo vedi anche meglio non solo Bellinelli sia stata molto importante per farli crescere e dargli un po' quella fotta come diciamo a Bologna per dimostrare che erano dei grandi giocatori ancora Sì onestamente devo dire che Sergio ma l'ho già detto anche in altre occasioni è un è un attore è un maestro nella gestione dei gruppi è veramente un un maestro nel far crescere anche i giocatori ecco e quindi sì vedo tanto della della sua mano quest'anno la Virtus ha faticato qualche partita in Eurolega magari anche qualche partita in campionato ma ha avuto veramente una serie di infortuni infinita un po' dobbiamo dire essere sinceri anche Milano anzi senza un po' però Sergio è molto bravo nel tenere unito il gruppo nel gestire e soprattutto nel sapere portare le squadre nei momenti che contano al top ecco quindi devo dire che adesso si sta avvicinando di finale di stagione e questa vittoria che comunque un po' mi ha sorpreso è un buon segnale proprio perché inizieranno ben presto le partite importanti quantomeno nel campionato italiano tra Bologna e Milano visto che si sono giocati contro tre volte no quattro volte in stagione ce ne saranno quinte in Eurolega e qui comunque le squadre saranno rimaneggiate arriveranno alla finale Scudetto non abbiamo punti di riferimento perché al completo non le abbiamo mai viste ti chiedo un aiuto a te al completo tra le due chi si fa preferire secondo te? Io penso che il reparto lunghi di Milano al completo abbia qualcosa in più del reparto lunghi di Bologna in termini di solidità esperienza e abbia appunto quel diciamo briciolo in più ecco Bologna da canto suo ha molta più imprendibilità nel reparto esterni più o meno diciamo come lunghezza si equivalgono sono farciti di campioni ha detto bene al completo cosa che ad ora non c'è quasi mai stato però Bologna ha qualche cosa in più negli esterni in termini di imprendibilità e anche di soluzioni tattiche diverse può giocare con gli esterni in post basso sono capaci di giocare il pick and roll uscita da blocchi non lo so però alla fine sono due squadre che si equivalgono si equivalgono molto da qua a giugno fine maggio ci sono ancora tante partite e secondo me sarà una finale scudetto molto soprattutto se escono entrambi dal discorso Eurolega ancora vivo forse per entrambi forse un po' più per Bologna ma se escono in anticipo dal discorso Eurolega devo dire che le finali di scudetto saranno molto molto imprevedibili ti faccio due domande facili 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 per chiudere ok? ho studiato preferiresti seguire un clinic di Ettore Messino o di Sergio Scariolo preferiresti fare il vice di Ettore Messino o di Sergio Scariolo ti chiudo con domande facili poi sei libero sì allora guarda sul discorso del clinic non c'è una preferenza sicuramente sono due titoli diversi nel senso che a livello di metodologia diciamo settimanale organizzazione tecnico tattica Ettore veramente è il migliore del mondo ecco e ne vediamo noi allenatori vediamo clinic almeno personalmente io vedo clinic di tutte le lingue di tutti i generi e Ettore è un grandissimo metodologo è veramente uno studioso della pallacanestro Sergio da canto suo ha certamente delle idee diverse ma allo stesso tempo è un un allenatore che ha ormai un sistema che riesce a trasferire i giocatori ed è eccezionale nella gestione parliamo di entrambi maestri nel loro modo di fare differenti entrambi maestri e devo dire che alla domanda ti dico me le vedrei prenderei un'ora un in più e me le vedrei due di fila per fare l'assistente mando il curriculum nel senso che sarebbe fare l'assistente a questi grandi allenatori è veramente oltre che un piacere pensarlo anche solo fosse un sogno ma penso che noi allenatori finiamo di essere allenatori quando smettiamo di voler imparare ecco fare assistente a questi grandi allenatori sarebbe un clinic quotidiano ok sulla seconda però non ho mai risposto sulla prima se va bene se c'è il clinic porta a destra Messina porta a sinistra Scariolo vai a destra o vai a sinistra Jack è veramente è difficile dirlo ma non è ma non è per è come sono come due grandissimi film no sono come due grandissime poesie sono come due grandissimi quadri no fai fatica a dire fai fatica a dire qual è il migliore hai ragione allora telefona Messina o telefona Scariolo vieni da me vieni da me a parità di cifra chi rispondi al primo che chiama non avevo neanche un dubbio bravo si tratta a questo punto solo di capire chi è il più anticipatore dei tempi no ma hai ragione perché in effetti sembrano battute no ma è come se ti chiama Rai 1 ti chiama Canale 5 nel nostro mestiere il primo che chiama vado però una cosa bisogna che te la diciamo che Tagnevic ha detto semplicemente riconoscendo grandi allenatori appunto Messina e Scariolo però lui diceva bisogna andare però in campo più col sorriso ti ricordi? si 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 più sdrammatizzanti ho visto ho visto la puntata dell'intervista che avete fatto a Tagnevic ovviamente Boscia anche lui fa parte di quella quella cerca di allenatori maestri ecco sposo tutte le sue parole però proprio in quel frangente disse di andare in panchina un po' più col sorriso devo dire che ha ragione ovviamente ma dobbiamo ricordarci come siamo tutti quanti noi anche lui in panchina e non è facile sorridere ovviamente è una sua opinione ma non è facile sorridere insomma ecco non è l'attenzione fa lui sorride adesso che ha smesso prima sorrideva meno anche Demis deve continuare ad allenare non può mica sbilanciarsi Boscia può dire quello che vuole no no ma è facile voglio dire ma ha ragione Boscia ma non c'è bisogno anzi non c'è Cavina non può dire ha ragione Boscia però non è facile insomma ridere o sorridere in panchina è chiaro che Boscia fa un discorso sul interpreto sulla tensione che noi con cui con noi possiamo contagiare anche i nostri giocatori vero l'ambiente vero ecco però non è non è semplice poi soprattutto ognuno di noi ha il suo modo di allenare quindi l'importante sono i risultati ma l'ho detto mille volte dobbiamo essere grati noi allenatori italiani e penso anche tutta la pallacanestro perché è chiaro che adesso con i social si fa molto in fretta a criticare ma dobbiamo essere grati a leggere certe critiche soprattutto dobbiamo essere grati del fatto che nel nostro campionato alleni non Messina e Scagnoli Demis io ti ringrazio ti devo salutare perché devo andare subito in pubblicità in bocca al lupo per il proseguo del campionato grazie a Demis Caviccia ciao 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 a tutti ciao ciao gluten free lovers specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi biscotti e panificati lo trovate a Bologna in via Mila Ponente 162 telefono 351-622-831 gluten free lovers tutto naturalmente senza glutine fatto da celiaci per celiaci discovery studio investigativo a Bologna investigazioni in ambito privato e aziendale indagini commerciali sicurezza discovery studio investigativo telefono 051-291-6471 provare per credere provare per scoprire try to believe try to discover giraldi editore storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011 i libri della giraldi editore li trovi nelle migliori librerie puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su facebook twitter e instagram giraldi editore big street 611 eventi, serate musicali e feste big street 611 il distretto della musica marchio storico di Bologna portavoce della house music la miglior location i parti più esclusivi poliambulatorio Argo medicina rigenerativa in via d'Azzelio 21 a Bologna per valutare il paziente nella sua interezza e globalità medicina generale terapia personalizzata diagnosi e prevenzione medicina orale poliambulatorio Argo nel cuore di Bologna Flatline Group eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni la mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana nata nel 2014 si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo Flatline Group professionisti del divertimento Ristorante Pizzeria Vittoria in via Righi nella affascinante atmosfera del centro storico di Bologna offre specialità di pesce pizza con forno a legna e cucina bolognese il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna in via Righi 9 a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto telefono 051-233-548 per la cura dei tuoi capelli affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri un vero mago della chioma maestro non solo nell'acconciarla ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna in via Urbana 12 barra A la nuova creazione di Chiara Manzi è il ristorante Libra Cucina Evolution primo ristorante al mondo di anti-aging Italian food si trova nel centro di Bologna ed è meta per tutti coloro che vogliono mangiare bene mantenendosi in forno senza rinunciare al piacere e al gusto della buona tavola Cosa facciamo? Prendiamo i piatti buoni buoni da morire e li rendiamo buoni da vivere sei alla ricerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli dimagrire e curare il mal di schiena prova gratis l'allenamento Sturfit solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi incluso nella prova gratuita anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie chiamaci subito al numero verde gratuito 820 20 44 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento Sturfit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi Torniamo in studio giusto per il pronostico arriva il match venerdì tra Virtus e Real Madrid fermo restando che insomma i giochi sembrano un po' fatti però la Virtus questa manifestazione l'ha onorata e fermo restando che comunque arrivare nelle 8 non significa guadagnare l'accesso alla prossima Eurolega bisognerebbe sopravvanzare Monaco in un eventuale tour di playoff a questo punto vista la classifica Virtus Madrid chi vince? Madrid facile? vince... simil Barcellona? no, no sarà una partita un po' più tirata ma alla fine comunque alla lunga verrà fuori Madrid Luigi? per me dovrebbe vincere Madrid secondo me la Virtus sta già abbandonando questo sogno playoff però ho molta fiducia nella wildcard e nel recupero questa è la cosa principale perché evidentemente l'accesso alla prossima Eurolega si deciderà nelle stanze del palazzo e pare che insomma per un triennio anche se in modalità diverse prima uno e poi due con la riforma quindi potrebbe essere un triennio complessivo come dicevo la Virtus abbia tutte le condizioni per essere nella massima competizione europea ci ritroviamo lunedì prossimo a presto 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 Grazie a tutti.